Intervento d'inizio settimana in diretta su Cilento Channel del sindaco Adamo Coppola che comincia con un commento sul weekend appena trascorso. Agropoli non è a parte dall'Italia, la movida c'è stata ovunque. Penso che Agropoli si è comportata bene, ci sono stati momenti di trasgressione, ma valutando complessivamente se confrontiamo i due weekend già notiamo la differenza. C'è stato più senso di responsabilità, le criticità ci sono state naturalmente, ma dobbiamo e possiamo migliorare. Una sufficienza per il comportamento della città nello scorso weekend nonostante siano presenti ancora delle problematiche. Coppola poi prosegue rispondendo al consigliere d'opposizione Agostino Abate che si è definito amareggiato per gli incontri avuti con solo alcune forze politiche come il Movimento 5 Stelle. Abate non dovrebbe essere amareggiato perché legittimamente questa amministrazione può decidere di incontrare tutte le forze politiche, dichiara il sindaco. L'incontro con il Movimento 5 Stelle è stato fatto per la vicinanza con la senatrice Lamura che sta lavorando al riaffondamento della Posidonia. Anche il ministro dell'Ambiente Costa è con i 5 Stelle e il sottosegretario del ministro è con il PD. Mi sono solo riferito alle forze al governo per avere risposte più rapide, non c'è volontà di escludere nessuno. Il primo cittadino continua con l'argomento confermando che in questo periodo non ci sono divisioni per il bene di Agropoli. Mercoledì pomeriggio ho convocato tutti i gruppi politici per valutare insieme le proposte per le spiagge libere e per migliorarle. Vedremo se i consiglieri verranno con volontà di collaborare o di dire che è tutto sbagliato. In questo momento per me non c'è maggioranza e minoranza. È inutile innescare discussioni. Stiamo pensando alla città. Non ho problemi a parlare con nessun partito, afferma Coppola. Ho parlato anche con la consigliera Botticchio, mettendo una pietra sopra i trascorsi. In chiusura Adamo Coppola dà anche delle piccole novità sull'ospedale. Ho saputo di diversi incontri la settimana scorsa. Il primario è venuto a vedere le sale operatorie ma ci sono continui incontri presso l'ospedale.